siamo riusciti a sgarfare tre punti in un Via del Mare in festa amici di tutto Udinese e dei fuoricampo buona sera e ben ritrovati qui con voi Davide Marchiol per commentare il ritorno alla vittoria dopo circa due mesi di digiuno dell'Udinese di Cannavaro prima vittoria in Serie A per il tecnico napoletano una vittoria in cui i presupposti c'erano c'erano perché i concorrenti avevano perso tutte a fronte in Lecce che non ha più nulla da chiedere al campionato perché Chapeau ha un'altra ottima annata dei pugliesi che con Corvino hanno costruito un'ottima rosa con Davide saranno partiti bene con Gotti ha ripreso quella maniglia che sembrava un po' persa ecco, era un Lecce che non aveva più nulla da chiedere al campionato e in alcuni tratti anche abbastanza grossi della gara lo si è notato noi però siccome di solito nelle boiate veniamo bene non si può mai mettere le mani avanti con questa squadra però alla fine diciamo che in un qualche modo portiamo a casa tre punti cruciali perché scavalchiamo il Frosinone scavalchiamo l'Empoli che sono le due squadre che affronteremo nelle ultime due giornate probabilmente non vinceranno il fantacalcio perché avevo lo scontro diretto con il secondo oggi mi serviva un gol di Pongracic per non perdere e ovviamente Pongracic non ha segnato ma se devo perdere il fantacalcio dopo un'annata da dominatore per vedere questa squadra vincere devo dire che perdo con molto volentieri ecco, con molto più piacere speriamo ecco di dare seguito a questi tre punti chiudendo il discorso contro Empoli e Frosinone due gare che saranno notostissime perché a differenza del Lecce da questo campionato non è ancora tanto da chiedere perché adesso sono appaiata al terzo ultimo posto a quota 32 punti c'è anche il Cagliari a questo punto che contro il Sassuolo si gioca probabilmente tantissimo del suo campionato una vittoria nel segno dei due giocatori forse simbolo di questa squadra un Lucca che deve giocare giocare in un mestiere ecco diciamo in un sistema c'entra poco con quelle che sono le sue caratteristiche e un Samarzic che è stato sempre tanto criticato anche da me perché purtroppo oggettivamente non è stato decisivo come si sperava però alla fine il gol per chiudere la contesa almeno in questo finale di partito lo mette altro gol che arriva negli ultimi minuti e non lo subiamo ecco quindi qualche timido segnale di miglioramento cioè io non mi inolto in altri complimenti perché le ultime volte che ho fatto mi sono lanciato un po' più in là nelle cose positive poi questa squadra mi ha regalato delle trambate nella parietà troppo clamorose quindi calma gesso c'è ancora un lavoro incredibile da fare in questa partita ripeto il Lecce non andava tanto da chiedere però nei primi 15 minuti mi sono mi sono spaventato mi sono spaventato perché ho visto un Lecce che andava a tutta altra velocità rispetto a noi noi completamente impauriti loro entusiasti liberi festosi mi verrebbe quasi da dire Amquist quando puntava Christensen era uno spettacolo se non ti fiudinese se ti fiudinese ti veniva ogni volta da sbiancare ma al di là del fatto che Christensen al di là del fatto di cercare di smentirmi subito su quando ho detto che Christensen stava migliorando c'era proprio un mismatch palese in quel punto quando Amquist punta Christensen la velocità è completamente diversa e di Grattacap in accetti parecchi ma prima di notarci nell'analisi tecnica come sapete il nostro canale segue e copre principalmente realtà meno considerate dal punto di vista dei mass media nazionali e sfrutta la potenza dei social per come dire dare più visibilità a queste realtà udinese tantissima serie B poi nelle live ovviamente ci dilunghiamo insieme a voi nei temi più caldi che riguardano le parti alte della classifica quindi se non siete già iscritti iscriveteci iscrivetevi aiutateci in questo nostro sforzo se siete già iscritti ricordatevi di lasciare il like e di condividere a chi ancora non ci conoscesse sezione commenti aperta per domande curiosità cose che ho mancato perché come sapete faccio i video a caldo io sulle partite ci lavoro in quanto giornalista quindi talvolta purtroppo sono umano e qualcosa magari mi sfugge facendo tutto una reaction a caldo in stile youtuber che però non sono ecco quindi mi raccomando ecco se si è messo qualcosa o se avete delle domande lasciate nei commenti è assolutamente aperta detto questo formazione iniziale che è la solita un po' di gioco di prestigio super era nel senso che secondo me non sta per niente bene quel ginocchio è proprio artefatto ad arte è proprio pieno di cerotti si è tenuto su artificiosamente però comunque il pallone per il gol di Sam se lo ha messo e però sì dopo dieci minuti era già che si teneva che si strecciava le gambe perché secondo me non continua a non stare bene speriamo che ecco queste due settimane di utilizzo scarto ridottissimo gli permettano di essere un po' più pimpante per la gara di Empoli dove la sua qualità ci servirà perché oggi sì c'è stato quel quarto d'ora del Lecce ma oggettivamente il Lecce dopo quel quarto d'ora ha iniziato ad allentare un po' la presa sulla partita e l'Udinese è un po' finalmente uscita dal guscio poi lo sappiamo lo stile è quello squadra blocco la linea del pallone e poi di partenza veloce la coppiata Samadich Success mi non so quanto mi convinca non so quanto mi convinca perché mi sembra Samadich Success e Luca mi continua a sembrare tre che messi così quagliano quaglino un po' pochino però bisogna dare atto che il fatto che con Success con Success uffa lì il Ligeriano il fisico per stoppare bene il pallone lo ha e ha anche il piede per qualche verticalizzazione interessante quando ti stoppa la palla così riesce a col fisico imporsi e immediatamente mette la verticalizzazione sulla fascia la sua pericolosità è molto interessante forse più di un Samadich che vive di fiammate lui quando ha un po' di spazio per il dribbling secco è fortissimo se non è coinvolto nella manovra fa un po' fatica a prendere lui le redini cioè difficile che tu lo veda sbracciarsi per chiedere il pallone gli 1-2 continua ad essere un elemento un po' estraneo non sappiamo l'abbiamo venduto due volte ed è ancora qua purtroppo sono fattori che in stagione come il fatto che appunto Perea non abbia fatto la preparazione sono cose che poi alla lunga purtroppo paghi però alla fine comunque Success mi dispiace per lui perché quel tiro meritava il gol ha una bellissima chance in percussione appunto la manna di un pelo alta poi però Della al gol di Luca marcato in maniera oggettivamente molto blanda ma comunque ecco nella capocciata si conferma un giocatore molto interessante e quelle sono le sue caratteristiche lui deve ricevere cross deve ricevere palloni lì messo lì a far da boa si può farlo perde il 75% della sua pericolosità perché non mi sembra proprio quello il suo il suo mestiere proprio il bomber da mettere proprio il bomber vecchio a scuola più che la Ibrahimovic sinceramente alla Rolando Bianchi tu lo piazzi lì gli butti il pallone in aria e prima o poi un'incornata te la mette Lecce che sinceramente si reagisce con un po' di foga non tantissima giusto per dare un po' di vivacità alla gara Ludinese restando così bassa ti fa venire ogni volta il magone perché ti stila la sensazione che la boiata sia lì per arrivare cioè a un certo punto Christensen la manda lì indietro coglie la sbrissa per dire alla friulana cioè veramente stavo vedendo gli incubi nonostante non ci fosse un avversario che stava dannando la partita in modo particolare però ecco poi alla fine comunque con una bella azione nel finale la porti a casa e esattamente come per success mi dispiace un po' per Davis perché questo povero ragazzo sta provando in tutti i modi a segnare e ogni volta ci si mette o il portiere o la sfortuna come col palo col Bologna stavolta è bravissimo Falcone nella parata Susana ci può poco è più reattivo di tutti per Lazar la Isacca tre punti ripeto cruciali cruciali adesso bisogna cercare di recuperare energie mentali fisiche se si può magari anche ridare un po' di minuti a Pereira Tovven e Lovric difficilmente li vedremo anche contro le Empoli potenzialmente mi sa che li vediamo se li vediamo col Frusinone per uno spezzone per allungare un po' le rotazioni per magari non so un'invenzione decisiva di Florian che è quello che avrebbe un po' la magia tra virgolette tra i piedi alla Deuropeu perdonatemi se lo scomondo ma va citato oggi di Natale perché va citato oggi perché il 13 maggio 12 anni fa io ero al Bire a Udine a guardare di Natale che dal fondo di campo faceva quel tocchetto di esterno clamoroso per battere Carriso in uscita ecco oggi sono a soffrire per un lecce udinese dove i tre punti l'udinese deve andarseli solo a prendere e comunque qualche magionese lo fa venire veramente mi sembra di essere passato dalla pianeta Terra a Marte perché in questi 12 anni è cambiato il mondo intero però questa è la vita e questa è la storia d'altronde io studio storia quindi so perfettamente che le cose in questi anni possono potevano potevano possono e sono cambiate ecco quindi niente ragazzi però ecco non vi dico viva l'ottimismo in stile spot della tv ma dai un po' un minimo ci godiamo il fatto di esserci tolti da quella situazione pericolosissima ora due gare di fuoco cruciali in una giochiamo davanti ai nostri tifosi che non sono mai mancati anche oggi in 200 a Lece quindi immagino che anche con l'Empoli ci saranno per supportare questi ragazzi e poi a Frosinone sperando ecco che pesi il meno possibile quella gara perché andare a giocarsi la vita in uno stadio in un benito stirpe bollente può essere un problema soprattutto per una squadra che non ha della mentalità proprio il suo punto di forza credo di aver detto tutto credo di aver detto tutto spero spero almeno dagli appunti che mi ero segnato durante la gara e mentalmente mi seme di aver detto un po' meno tutto se ho mancato qualcosa vi ripeto nei commenti io comunque li guardo e in caso se ho qualcosa da dire effettivamente rispondo ah ecco un'ultima roba io a un certo punto ho visto Ebozere guardare avanti e per guardarsi indietro cadere io non ho capito come abbia fatto un giorno qualche scienziato me lo spiegherà per fortuna in 15 minuti dove è riuscito a fare una quantità di danni incredibile però ha fatto una lettura di un anticipo clamorosa dando il A al gol del 2 a 1 quindi dal 2 a 0 scusate quindi è giusto anche dare a Cesare quel che è di Cesare vesti però continuamente un'angoscia quando è in campo imbarazzante perché quando casca anche Bioli dice ma come hai fatto cioè stai attento c'è l'appunto Wallace gli fa vai a sganciati e vai da lui sganciati e vai da lui e Ebozere non si sgancia avrebbe anche delle qualità ma veramente non si capisce perché quell'anticipo lo fa perfetto però poi fa queste robe avremmo anche un esterno interessante ma c'è veramente non riesce a basta basta ragazzi un saluto se vi piacciono i nostri video iscrivetevi lasciate like e condividete questi video un saluto alla prossima ciao